L'India starebbe valutando una proposta dell'Italia per una soluzione consensuale della vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012. L'indiscrezione è stata pubblicata oggi sul quotidiano indiano The Economic Times. Secondo altre fonti governative, il governo ha deciso di tenere presso una riunione presieduta dal consigliere per la sicurezza Ajit Doval per studiare la soluzione offerta da Roma per risolvere la crisi. Nell'articolo si parla di una sorta di ammorbidimento della posizione indiana e di una possibile risposta ad un'offerta del governo Renzi per sbloccare la crisi che si trascina ormai da oltre 30 mesi. Intanto il Tribunale speciale di New Delhi, che si occupa del processo dei marò, ha aggiornato al prossimo 20 febbraio l'esame del caso. Il procedimento penale è attualmente sospeso su ordine della Corte Suprema, che a marzo aveva ammesso un ricorso sull'incompetenza della polizia antiterrorismo della NIA a condurre le indagini. La prossima scadenza resta all'udienza del ricorso fissata dalla Corte Suprema per il 12 dicembre 2014.